Ancora grande confusione nel governo Johnson sul tema dell'immigrazione. Questa mattina l'om segretario Priti Patela ha dichiarato alla BBC che il governo non concederà la visa agli immigrati poco qualificati e in particolare a quelli che non parlano inglese. Serviranno però i immigrati per lavorare in settori in cui è richiesta una bassa formazione, ovvero i low-skilled workers. Contemporaneamente il governo vorrebbe abbassare il tetto minimo salariale di questi settori a poco più di 20.000 sterline l'anno. Ma il ministro ha anche avanzato l'ipotesi, definita ridicola dall'opposizione, di attingere ai tanti britannici senza lavoro per offrire mano d'opera in questi settori con carenza di personale. La maggior parte di queste persone però ha problemi a lavorare. In particolare si cercano infermiere anche addette ai catering e all'agricoltura, settori in cui è forte la presenza degli immigrati. Le relative associazioni di categoria hanno già espresso forti preoccupazioni per i piani del governo e prevedono con queste misure molti problemi di reperibilità per il personale a causa del basso salario, delle modifiche ai diritti per i benefit e per il sistema a punti per l'immigrazione. Questa puntata è offerta da Gola. Adoro i peccati di Gola. Adoro i peccati di Gola.